Quasi 300 veicoli a 2 e 4 ruote controllati, 43 sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 42 per eccesso di velocità, 19 per l'utilizzo del cellulare alla guida, 5 per alterazione da bevande alcoliche. Sono alcuni dei dati relativi al pattugliamento delle strade da parte della Polizia Stradale di Nuoro nell'ambito della campagna internazionale Road Pole, tenutasi dal 5 all'11 dicembre. Un progetto europeo che anche in Italia individua delle aree strategiche sulle quali mettere in atto un piano di controllo diretto, soprattutto, ma non solo, verso quegli utenti della strada che si mettono alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche e droghe. Per noi sono servizi che hanno una valenza soprattutto preventiva, non repressiva. È questo che ci teniamo a ribadire ogni volta, anche per far capire agli utenti della strada, che noi operiamo per la loro sicurezza, per la sicurezza stradale generale sul territorio, in questo caso, della provincia di Nuoro. Agire sulla patente di un conducente che guida in condizioni alterate dalle sostanze alcoliche o, ancora peggio, dalle sostanze stupefacenti o psicotrope è sicuramente un'azione, sì, repressiva, ma che influisce sulla sicurezza di tutti noi utenti della strada. Un piano strategico operativo e preventivo in cui la Polizia Stradale di Nuoro, che estende le sue competenze anche ai territori del Sassarese e dell'Oristanese, crede al punto da portare sulle strade provinciali un numero di pattuglie sempre crescente. I cittadini, gli utenti della strada, devono stare sicuri che troveranno un numero sempre più elevato di pattuglie sulle strade più importanti della Sardegna, che poi sono fondamentalmente la 131, la Carlo Felice, la DCN per quanto riguarda il territorio da Oristano a Olbia e la 389, sia la VAR che la vecchia 389, insieme alla 125, la 129, che per noi sono un obiettivo strategico. In questo ambito la sezione Polizia Stradale esprime un minimo di 15 pattuglie al giorno per arrivare fino a oltre le 20.